Viene qua vicino a me Massimino Manzo di Radio Salernomia. Buonasera. Buonasera. Allora, Massimino, dobbiamo fare una cosa per i bambini. Quando ci sono i bambini c'è tutto. Bravo. Stai fatta già russo, russo, ma non metto un parolo, non sta in lucera. Come se dice il vecchio... Ti sei fatto rosso, rosso. Ma non ti preoccupare, perché ci sono poche persone che ci guardano. Allora, mettiti qua. Non ti muovere, non ti muovere. Vedi? Anzi, questa è la camera qua, secondo me. Ecco, guarda fin stai. Allora, mettiti il profumo così, però non devi parlare. Devi solo aprire la bocca. Capisci? Eh no, non è che va bene. Tu devi vedere se lo fa, guarda, guardami. Fai. Che c'è una gomma? Ah, la prova stai facendo? Ci sono pensavo che avevano una gomma. Va bene, facciamo questa cosa per i bambini. Mi guardi solo a lui? Facciamo. Io mi scosto. Mi scosto. Vediamo un pochettino. Facciamo queste sorpresine per i bambini. Così vediamo un po' come è la situazione. Allora, un attimo solo. Se la regia mi può inquadrare il mezzo busto di questo baldo giovanotto. Tanti ci manca pochi di dirmi. È nato Quartalorsa, ma come voglia? Va bene. Allora, facciamo questa cosa maleguata. Un attimo. Allora, tu non devi parlare però. Quello che io dico, tu fai. Un altro pochettino, grazie. Ingrandiamo un altro pochettino questo baldo giovanotto. Allora, vediamo un pochettino. Va bene. Perfetto. Va bene così. Dopo per i messaggi. Prepariamo. Allora, sei pronto? Io parlo e tu... Poi a me dovete guardare. Guarda i messaggi che ci sono tantissimi bambini. Lo so, lo so. Allora, sei pronto? Via. Non guarda a me, guardala. Ehi, ciao! Sto arrivando, Yogi! Baba Bubu! Che bella serata per i bambini! Ehi, c'è un piccolo cestino! L'andiamo a prendere a 6 tv, sta qua nell'angolo! Baba Bubu, tu sei matto? Se vieni a canno ci picchia a me! Cretino, vuoi morire la bocca? Bravo, stai masticando? Un applauso. E' per i bambini! E' la causa! Un applauso a Santino! Ciao, ciao! Ah, mi dai il microfono? Grazie.